Auguriamo questo tratto di ciclabile che collega i comuni di San Giorgio Bigarello verso Mantua. In realtà la ciclabile è pronta da un anno, però anche con le vicissitudini del Covid abbiamo voluto aspettare, approfittare di questa giornata, che è la giornata internazionale dello sport, per dare un ulteriore significato di vicinanza al mondo sportivo e a tutti coloro che amano praticare sport, anche non solo agonistico. Inauguriamo questo tratto, ma ci sono altri due tratti. Uno è l'attraversamento che abbiamo realizzato su via Marconi, che collega la ciclabile già esistente con un altro tratto, che si va a innestare sulla ciclabile, anche questa già esistente, che è una ciclabile naturalistica, quella della via Castiona, e l'ultimo tratto invece è un raccordo, sempre ciclabile appunto, tra la stazione di gazzo e la parte terminale della ciclabile sempre già esistente.